Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Gruppo per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Pubblicata da oggi sul Burt la variante al piano strutturale del comune di Portoferraio, i cittadini ora avranno 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni. Siamo arrivati al giorno della pubblicazione, abbiamo questa mattina proprio inviato la comunicazione per la pubblicazione sul Burt, quindi si va verso la stagione delle osservazioni e si va verso una nuova stagione per l'urbanistica della città di Portoferraio. Quindi io per questo risultato devo ringraziare gli uffici del comune di Portoferraio che hanno lavorato sul materiale che era già stato lavorato in precedenza, ma abbiamo dovuto riallinearlo, rivederlo e rivisitarlo. Quindi a questo punto, con estrema soddisfazione, diciamo che siamo arrivati al momento in cui i protagonisti nuovamente diventano i cittadini, le imprese e il territorio che potranno tra qualche giorno procedere con le loro opportune, necessarie, se ritenute, osservazioni. Dopodiché partiremo con questa nuova fase per Portoferraio.